Avete l'acquario pieno di alghe? Nere, marroni, verdi, spotted, qualsiasi tipo di alghe? La ditta APT fa l'aghicida per voi. Quindi sono due prodotti, APTfix e APTfix Lite, come si usano? Hanno all'interno una pipetta graduata da 3 ml, si dosa ogni giorno 1 ml per 10 litri di acqua dell'acquario, quindi facilissimo. Se avete muschi, piante dedicate, ricardia, pratini, usate la versione Lite, che è un po' più leggera. Se avete piante facili e robuste, usate poi l'APTfix. 10 giorni, dosaggio appunto 1 ml ogni 10 litri, spegnendo il filtro sparato a zone nel vostro acquario, dopo 10 minuti riaccendete il filtro e la soluzione andrà comunque in tutta la vasca. E dopo 10 giorni le piante saranno pulite dalle alghe e avete l'acquario che sarà bellissimo come era all'inizio.